Buongiorno a tutti, io sono Francesca Chelini, sono contenta di ritrovarvi. Questo è il secondo appuntamento dedicato al progetto Paesaggi Sensibili, un progetto pensato dall'Istituto Comprensivo 12 del quartiere Savena di Bologna, di cui Genos Bononier è partner. Questa è la seconda conferenza online che vi presentiamo. Io sono in compagnia di Paolo Cova, un collega e nonché amico, che ci racconterà oggi di un tema straordinario. La grande attesa che c'è stata e che purtroppo ancora c'è, di una mostra incredibile. Il politico Griffoni, la riscoperta di un capolavoro, ospitata a Palazzo Fava, uno dei palazzi inerenti al circuito Genos Bononi, come potrete imparare e capire guardando la prima delle conferenze che abbiamo fatto online con Benedetta Basevi, una mostra fortemente voluta dal presidente di Genos Bononi, il professor Fabio Roversi Monaco, e curata da Mauro Natale e Cecilia Cavalca. La mostra è dedicata appunto a quest'opera d'arte molto importante del Rinascimento italiano, che è il politico Griffoni. Allora Paolo, ti chiederò a breve la cosa più semplice, cioè che cos'è un politico. Ma innanzitutto, invece, io voglio dire chi sei tu. Paolo è uno storico dell'arte, il dottor Cova, uno storico dell'arte, ha l'attivo diverse pubblicazioni inerenti al periodo medievale, è rinascimentale, collabora da anni con l'Università di Bologna, con diverse fondazioni della città, collabora da anni con i musei civici di Bologna e per il politico è stato, come in tante altre occasioni, consulente scientifico per un documentario molto importante e interessante che sta passando ora in questi giorni su SkyArte, ma ha collaborato come consulente scientifico anche per documentari di Rai, Rai, Sky, video in cui a volte hai messo la faccia, si potrebbe dire così, ed altre volte invece, come tu preferisci, la testa. Esatto. E allora, torniamo al fulcro di questo incontro. Che cos'è un politico? Spieghiamolo a chi ci ascolta. Allora, un politico è un insieme complesso di figure che spesso venivano collocati sugli altari delle chiese. I politici quindi sono composti da opere d'arte diverse e spesso la materia con cui sono fatte queste opere d'arte differisce. Abbiamo politici che sono dei dipinti su tavola, politici altre volte che sono dipinti su tela, politici che sono complessi di statue, in terracotta, in pietra o in marmo, e delle vere e proprie macchine d'altare imponenti che si diffusero tra il Medioevo e il periodo rinascimentale per poi essere sostituiti dalle palle d'altare moderni. Quindi il politico è sicuramente una delle prerogative dell'arte di questa fase storica e di solito è organizzato in registri. C'è un registro più importante che è quello centrale dove ci sono le immagini del Santo, della Vergine, di Cristo a cui è dedicato insomma l'intero politico. Poi ci sono altre componenti. Il registro inferiore che generalmente viene chiamato predella e il registro superiore che è la cimana. Questo politico è particolare, o meglio, la sua vicenda è particolare. L'importanza storico-artistica è innegabile, magari avremo modo di spiegarlo a chi ci sta guardando, ma la cosa davvero incredibile è la sua vicenda, possiamo dire, proprio storico-artistica. In questo senso la mostra attualmente ospitata a Palazzo Fava che speriamo di poter vedere presto è un evento, un vero e proprio evento. Perché è così importante questa mostra? Cominciamo col dire che è il sogno degli storici dell'arte riportare a casa le diverse opere d'arti oggi conosciute che componevano lo splendido politico grigio. Capolavoro del Rinascimento bolognese, ma più in generale del Rinascimento italiano, realizzato tra il 1470 e il 72 per la cappella che la famiglia Grifoni, la cappella di San Vincenzo Ferrer, che la famiglia Grifoni aveva in San Petronio. Quell'opera è rimasta lì fino al 1725 circa, quando un potentissimo cardinale, il cardinale Pompeo Aldrovandi, ha deciso, perché il gusto era cambiato sostanzialmente, di smembrarlo, ha fatto bruciare le parti della cornice che lo componevano, ha resecato, tagliato insomma le diverse tavole e ne ha fatti dei quadri che furono collocati nella sua dimora di campagna. Poi da lì questi quadri, per via del collezionismo tra l'epoca moderna e quella contemporanea, hanno preso strade diverse. E oggi il sogno è realtà, perché l'opera torna in città, le opere tornano in città, viene ricomposta idealmente, ma poi vedremo meglio non soltanto idealmente, e queste opere sono conservate generalmente nei più grandi, in alcuni dei più grandi musei del mondo. Cioè dalla National Gallery di Londra, alla Pinacoteca di Brera, alla Pinacoteca Vaticana, alla National Gallery di Washington, poi Rotterdam, poi Gazzada, la Cini di Venezia, la Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Insomma, veramente, ci troviamo di fronte a uno sforzo corale che riporta questi grandi capolavori nella città per cui erano nati. Quindi, prima gli storici dell'arte per studiare questa opera d'arte dovevano basarsi su immagini, nella prima metà del Novecento, immagini addirittura in bianco e nero, oppure dovevano spostarsi da un capo all'altro, diciamo, del mondo. Oggi, per la prima volta nella storia, invece, possono osservarla, ammirarla, studiarla, direttamente in un'unica sala meravigliosa che ora vediamo, il salone di Giasone, cosiddetto, di Palazzo Fava. Vero, Paolo? Sì, cioè, eccezionale il contenuto e eccezionale il contenitore perché in questo spazio, per volontà di Filippo Fava, cominciarono le loro grandi imprese pittoriche parietali, i Cugini Carracci, nel 1584. Sotto vedete l'allestimento delle diverse opere originali provenienti da tutto il mondo ed è chiaro che l'operazione è virtuosa, importantissima, apre tutta una serie di nuove prospettive anche nella ricerca e arriva, e per questo che è il vero e proprio sogno degli storici dell'arte, dopo anche una lunga vicenda critica. Pensate che erano già stati Cavalcaselle, Frizzoni, a proporre le prime ricostruzioni, poi molti altri storici dell'arte si cimenteranno, soprattutto il grande Roberto Longhi che ricostruisce a più riprese il politico Grifoni scoprendo, riscoprendo e componendo le diverse opere che si trovavano nelle collezioni e anticipa, con qualche chiaramente differenza, quella che poi è la restituzione attuale di Cecilia Cavalca, quindi la più recente. Ma è chiaro che questa mostra darà la possibilità anche di aprire veramente nuove prospettive. Ecco, questa Paolo, raccontaci un po'. Intanto, grande assente, si potrebbe dire così, correggimi se sbaglio, è la strepitosa cornice del De Marchi. Certo, perché la dialettica straordinaria tra Francesco del Cossa, che è il maestro più maturo, aiutato da Ercole De Roberti, due dei campioni assoluti, come diceva Roberto Longhi, dell'Officina Perrarese, e il maestro d'Ascia, cioè il maestro di legname, De Marchi, porta alla realizzazione di questa monumentale macchina d'altare moderna. Vedete il registro centrale, dove c'è l'immagine di San Vincenzo Ferrer, affiancato su un paesaggio fantasioso, splendido, insomma tipico della cultura ferrarese, da San Pietro e San Giovanni Battista. Poi la predella nella parte inferiore, con le storie dei miracoli, con una narrazione veramente dinamica del Santo Domenicano. Poi la parte superiore, il registro superiore, dove ci sono i due santi legati ai committenti, che sono a sinistra Floriano e a destra, chiaramente, Santa Lucia, che si affacciano, quindi, sopra un'architettura, quindi dal mondo divino, dal mondo, insomma, metafisico, dal paradiso, guardano al di sotto la concretezza, la dimensione naturalistica degli altri personaggi. Poi ancora trovate, chiaramente, la crocifissione al centro e i due tondi con l'annunciazione oltre ai sentini laterali. Quindi veramente una splendida opera che è stata per secoli nella cappella di San Vincenzo Ferrer, appunto, in San Pietro. Questa mostra, Paolo, ha, possiamo dire, una doppia anima. Cioè, dal lato, riprende, ritesse le fila, appunto, storico-artistiche e artistiche, naturalmente, di questo capolavoro, quindi guarda al passato e lo ricostruisce, lo ricrea, per nostra fortuna. Dall'altro guarda al futuro, giusto? Sì, certo, perché le due anime sono anche legate all'operazione di riproduzione che ha fatto Factum Art delle diverse parti dell'opera. Quindi, in mostra, oltre a le tavole originali nella sala, come abbiamo visto, di Giasone, che chiaramente non potevano essere ricomposte, anche perché la cornice originale, come abbiamo detto, è andata persa per motivi di conservazione, vede la presentazione di un lavoro che è durato anni, proprio di ricerca e riproduzione di questi originali. Factum Art crea delle riproduzioni delle opere originali con un livello di attenzione, con una capacità anche tecnologica, profondamente innovativa, che ripropone la pellicola pittorica nella sua materialità. E questa ricomposizione rimarrà nella città di Bologna. E quindi sarà l'occasione per chi verrà dopo di noi per osservare com'era il politico Grifoni a tutti gli effetti, anche se giustamente le opere torneranno, nelle loro, le opere originali, torneranno nelle collezioni che le hanno custodite mirabilmente, peraltro visto lo stato di conservazione, nei secoli, nei decenni. Ecco, rimarrà nella sua città, almeno la rimaterializzazione ad opera di Factum Foundation, rimarrà a Bologna. In che modo il politico Grifoni ci parla di Bologna in qualche maniera? E perché la scelta iconografica? In particolare mi incuriosisce capire questo San Vincenzo Ferrer e la cappella dedicata proprio a lui, in San Petroio. San Vincenzo Ferrer è un personaggio molto interessante della storia europea del Quattrocento. Era un Domenicano e ovviamente quindi aveva avuto la possibilità di studiare, di formarsi nella casa di tutti i Domenicani che sanno Domenico a Bologna da sempre e verrà canonizzato nel 1455. Lui è un campione della fede, lotta per la chiusura dello scisma d'Occidente, è un personaggio che ha da subito una grandissima oratoria, predica alla fine dei tempi, l'Apocalisse, anche Taumaturgo, insomma, quindi fin dalle prime esperienze è già considerato una sorta di santo in vita, raccoglie masse in tutte le città dove predica e anche in Piazza Maggiore. Spesso e volentieri la sua predicazione è legata alla riconquista, quindi anche a una funzione antislamica che in quel momento essendo lui un catalano interessa particolarmente la penisola iberica ma più in generale insomma tutta Europa. Ed è chiaro poi che ha un rapporto forte perché lui vive, si muove, studia nel contesto bolognese e quindi nasce la necessità di avere una cappella lui dedicata proprio in quella che era la Basilica, la Basilica Civica, la casa dei bolognesi, insomma San Petronio. I Grifoni, e attenzione perché questa è una cosa importante, non è un dato scontato per una famiglia bolognese avere una cappella, il patronato di una cappella perché poi la proprietà della Basilica era comunale, era civica, ma è il patronato di una cappella, quindi l'usufrutto, l'utilizzo insomma di una cappella all'interno di quella che era la Basilica più importante. I Grifoni erano usciti ad avere questo patronato dagli anni 30, 1435 circa e Floriano, che è un amico di Giovanni II Ventivoglio, un personaggio ricco, potente insomma di quella che è la città al tempo della sua, di questa sorta di signoria bentivolesca, riesce a rinnovarne la decorazione con questo capolavoro. E l'opera, dicevamo, principale sicuramente del politico è questa splendida, incredibile tavola dedicata a San Vincenzo Ferrer, dove il santo è posto su un podio, alle spalle c'è questa dimensione anche straordinaria di questo paesaggio legato alla tradizione chiaramente della pittura ferrarese, ma con molti elementi naturalistici, cioè i dettagli particolari, le architetture, cioè Francesco del Cossa riesce a creare una dialettica tra la pittura per francescano e questo lo fa per tutto il politico griffoni, l'attenzione allo spazio secondo andamenti maturi legati alla tradizione chiaramente anche del rinascimento toscano e poi il naturalismo padano, quindi queste attenzioni ai dettagli di realtà che sono presenti in tutta l'opera. E l'opera è veramente un tripudio da questo punto di vista, cioè ci sono degli elementi straordinari, la concretezza del panneggio per esempio del San Pietro, il particolare anche della foglia d'oro delle grandi chiavi, quindi c'è una dialettica e in quel momento Francesco del Cossa opera con grandissima attenzione con risultati che a volte sono fantasiosi, cioè il ritratto per esempio unico, affascinante di Santa Lucia che richiama la moglie di Floriano di Ghirfoni che muore proprio in quegli anni, ha in mano questo piccolo stelo dove i due bocciuoli sono gli occhi, quindi l'elemento iconografico e poi altri dettagli, altri particolari in cui Francesco del Cossa, questo è il dettaglio dell'anatomia del Cristo e affiancato poi da questo giovane eccezionale artista che è Ercole dei Roberti, per esempio qui vedete il Santino, il San Petronio di piccole dimensioni il dettaglio per esempio dei chiaroscuri dell'attenzione con cui è ritratta la figura anche inserita nella nicchia è qualcosa di profondamente nuovo quindi un Ercole dei Roberti che anche lui si muove con la piena coscienza dell'officina della sua dimensione fantasiosa della sua capacità anche per esempio di addentrarsi in una dimensione fantastica vicina all'oreficeria ma allo stesso tempo la concretezza di questo naturalismo di cui Francesco del Cossa è un campione che ha anche Ercole dei Roberti in un'opera che racconta della realtà del tempo è molto interessante questo accostamento tra Francesco del Cossa ed Ercole dei Roberti Ercole dei Roberti poi continuerà un'attività clamorosa nella nostra città la morte del suo maestro Canziano del Cossa ma è un discorso lunghissimo che non possiamo fare su questi due straordinari artisti del Rinascimento e quindi io vorrei invece farti alcune domande o una domanda o semplicemente ti chiedo di condividere con noi quella che è stata l'esperienza di questo documentario di Sky in SkyArte in cui tu sei stato protagonista come consulente scientifico intanto preferisci di più mi dicevi la consulenza scientifica come storico dell'arte piuttosto che la partecipazione proprio fisica alle riprese sì perché molto spesso le riprese sono molto faticose dal punto di vista proprio fisico quando si è davanti a una telecamera non ci si può muovere non bisogna sbagliare bisogna stare attentissimi sia a cosa si dice ma soprattutto anche come lo si dice e come ci si muove ma al di là di quello la differenza sostanziale è che spesso un'intervista che viene fatta da un tecnico uno storico dell'arte io rivesto sempre il ruolo di esperto in video generalmente è chiaro che viene montata tagliata ripensata ricombinata chi fa invece la consulenza scientifica ha un ruolo ponte tra la produzione e le esigenze della produzione quindi anche un oggetto il documentario che deve parlare a un numero veramente molto ampio quando noi facciamo una visita guidata o quando noi scriviamo un saggio parliamo a decine a centinaia se va bene a migliaia di persone un documentario televisivo ha una scala completamente diversa e quindi è chiaro che bisogna ragionare sui linguaggi bisogna ragionare anche sulla dinamica visiva e il consulente scientifico appunto crea un ponte tra i tecnici tra i curatori delle mostre tra gli studiosi eccetera eccetera e gli autori i registi e i produttori dei documentari e poi è chiaro che l'altro aspetto è che chi fa il consulente scientifico generalmente anche aiuta i tecnici della televisione a indagare le opere d'arte e questa è stata un'impresa sicuramente molto affascinante dedicata al politico Griffoni perché mi ha permesso di affrontare tante opere d'arte amate della nostra città di Bologna ma non solo qui ho messo alcune delle immagini che ho preso io col cellulare durante insomma le riprese che abbiamo fatto ed è chiaro che la mostra permette di parlare dello spaccato di un'epoca quindi siamo partiti nel documentario insomma si racconta di alcune delle più celebri oltre alla Cappella Griffoni Cappelle di San Petronio qui vedete un'immagine a Cappella Bolognini poi ci si muove raccontando la vicenda delle tavole si arriva fino a Washington c'è l'intervista del direttore della Pinacoteca di Brera l'intervista chiaramente al curatore Mauro Natale ma ci si muove anche in grandi contesti della nostra città qui nell'immagine vedete per esempio quella che è una delle opere più affascinanti di Marco zoppo il politico che si conserva nella Cappella del Collegio di Spagna quindi luoghi anche difficili insomma da raggiungere che vengono presentati per la prima volta o in televisione al pubblico e poi chiaramente i grandi capolavori regati a questi maestri questa è la Pala dei Mercanti quindi una delle opere più importanti di Francesco del Cossa che fortunatamente è rimasta nella città di Bologna conservata la Pinacoteca Nazionale era una tela commissionata nel 1474 da Alberto De Cattane che si vede proprio qui ritratto quindi sono tutte opere abbiamo attraversato la storia di questi artisti anche raccontando opere che avevano un rapporto stesso con il politico Griffoni e con l'epoca in cui sono realizzati e tra queste opere probabilmente il capolavoro tra i capolavori è certamente la dialettica tra l'unica testimonianza superstite dell'affresco in questo caso di Ercole de Roberti ma la cappella era stata iniziata da Francesco del Cossa la cappella Garganelli che si trovava in San Pietro ma è stata poi completamente distrutta sopravvive soltanto questo lacerto d'affresco con una maddalena piangente dolorante che viene che è stato nel tempo dagli storici dell'arte confrontato con uno dei capolavori assoluti della nostra città che è chiaramente il compianto di Niccolò dell'Arca opera del 63 e si vede proprio questa dialettica l'urlo insomma eternizzato nella terracotta che viene ripreso da Ercole de Roberti sulle pareti di questa meravigliosa cappella ma il compianto è fondamentale anche per mostrare la dimensione narrativa proprio cinetica e profondamente però realistica delle figure che Ercole de Roberti realizza per le storie di San Vincenzo Ferrer alla Pinacoteca Vaticana insomma in questa tavola che vede ancora la cornice tradizionale della Pinacoteca Vaticana e che oggi può essere vista in Palazzo Fava si vedono proprio i movimenti delle figure che richiamano quella dinamicità unica che ha il compianto sul Cristo Morte che ha conservato Santa Maria della Vita che di cui avete già parlato che è uno dei complessi legati insomma al circuito di musei della fondazione e poi infine un'ultimo eccoti un'ultima chicca esattamente un luogo che io amo molto non a caso mi sono messo nell'immagine come molti bolognesi Paolo scusate perché è un luogo simbolo esattamente un luogo simbolo che purtroppo come sai meglio di me Francesca non è poi così visitato non è così visibile al pubblico che è chiaramente la Madonna del Baraccano quindi il santuario del Baraccano che conserva un'opera commissionata addirittura a Francesco del Costa da Giovanni II Bentivoglio sull'altare maggiore un'opera che ha una storia straordinaria perché La Vergine col Bambino era stata dipinta alla fine del Trecento avviene un miracolo quindi l'opera viene nel 1472 commissionata a Francesco del Costa che realizza questa integrazione questo completamento questo ripensamento dell'antica icona miracolosa e vedete che i dettagli gli elementi sono molto molto vicini al politico griffone in particolare il paesaggio e anche l'attenzione per esempio naturalistica per gli angeli piuttosto che è difficile oggi vederlo per via delle condizioni conservative per il ritratto dei committenti e poi vi dicevo che questo documentario ci ha permesso di muoverci di muoverci in diversi contesti anche perché la vicenda di Francesco del Costa ed Ercole de Roberti è legata a Ferrara la loro città natale è legata al capolavoro assoluto realizzato intorno al 69-70 che sono gli affreschi chiaramente le decorazioni pittoriche per essere più corretti della delizia di Schifanoia e chiaramente la città padana nell'epoca di Borso d'Este quindi come dire la possibilità di muoverci per queste riprese di raccontare luoghi non così accessibili al pubblico a portarli al grande pubblico della televisione vuole essere anche un augurio in questo momento un momento in cui abbiamo tutti bisogno di ritornare nelle nostre città e di far sì che Polonia Ferrara l'Italia intera dialoghi col mondo ed è chiaro che questo è il senso sicuramente più profondo di questa impresa cioè una città di Bologna che riacquisisce un grande capolavoro per almeno qualche mese capolavoro che insomma gli permette di creare molteplici ponti e prospettive in relazione al mondo perché queste opere vengono da alcuni dei più grandi musei del mondo mi scuso se sono un po' prolisso ma chiaramente noi amiamo la tua prolissità Paolo ce ne fossero di prolissità come la tua io non posso che non posso che d'altronde io sono appartenente a questa categoria comunque io sono molto contenta invece dell'augurio finale che hai fatto cui non posso che associarmi ovviamente ti ringrazio moltissimo per questo escursus bellissimo invitiamo chi ci sta guardando a visitare la mostra sul politico Grifone a Palazzo Fava appena potrà riaprire e ringrazio e anche a guardarci in televisione è certo è certo assolutamente grazie infinite Paolo e spero di vederti fisicamente molto presto beh anch'io spero molto un augurio e un saluto a tutti ciao grazie grazie a voi